ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale cosa andremo ad aprire oggi finalmente adrenalin upgrade tra l'altro è appena uscito in edicola quindi questo lunedì capita proprio perfetto perché ve lo porto appena uscito lo trovate in edicola lo trovate anche sul sito panini al costo di 15 euro ma cosa è adrenalin upgrade ragazzi adrenalin upgrade è un modo per potenziare la vostra squadra e per arricchire la vostra collezione all'interno di questo pacchettino eccolo qui come si presenta troveremo 51 kart ma andiamo a leggerlo insieme un set ideato per aggiornare la collezione calciatori adrenalin xl 2023 2024 ed arricchire con nuove ed esclusive cards 51 nuovissime card ragazzi che si possono trovare solo all'interno di questo di questa scatolina di questo upgrade infatti all'interno troviamo 51 carte uguali cosa cambia cambia che all'interno si può trovare la limited edition di giro vestito da portiere come è successo tra l'altro nella giornata di serie a e ragazzi una di queste e nel totale ci sono dieci copie tra tutte si possono trovare si può trovare l'autografata è una di queste dieci anche in versione one of one questo è il retro ma insomma ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a spacchettare questo bel gioiellino e quindi ragazzi dicevamo non perdiamoci in chiacchiere ed andiamo subito ad aprire ci aiutiamo con il taglierino eccolo qui lo apriamo da sotto togliamo tutta la pellicola trasparente senza rovinarlo perché me lo vorrei tenere perché è anche molto carino così magari anche per mettere i nostri doppioni e lo andiamo ad aprire da sotto e all'interno si presenta così con un pacchetto unico anche perché le 51 carte che si trovano all'interno sono uguali per tutti l'unica cosa che cambia è che se siamo fortunati potremmo trovare la carta autografata di giro autografo originale ragazzi di giro cosa ne penso di questo blister mentre ora lo andiamo ad aprire penso che sia molto interessante sono contento che al costo di 15 euro ci dia tante carte diverse compreso la momentum quindi ragazzi mi raccomando state attenti a chi ve le vuole vendere perché già ho visto qualcosa di molto brutto purtroppo su vintage sulla momentum oro di laudaro perché ragazzi si trova all'interno di questo lotto per tutti quindi mi raccomando state attenti seguitemi perché magari anche vi faccio notare queste cose magari un pochino più distratti vedete la momentum magari a un prezzo più basso e l'andate a prendere magari soprattutto i tifosi dell'inter quindi mi raccomando state attenti andiamo a vedere queste 51 carte insieme partiamo da blindato casale romagnoli vedete la scritta upgrade qui sul lato quindi non sono plus ma sono proprio upgrade come detto ragazzi ecco qui la momentum oro che per tutti ragazzi la potete trovare tutti semplicemente comprando questo blister a 15 euro di adrenalin upgrade sotto abbiamo su queste energie plus vedere cioè sia la scritta plus che la scritta upgrade in questo caso portierone summer poi abbiamo la panini rookie di piccoli l'online star altra online star panini rookie di rovella sotto abbiamo sottile queste erano quelle che si trovano direttamente nel gioco online poi stesso discorso per l'ovato stesso discorso per frattesi tra l'altro con questa ragazzi ci giocavo sempre soprattutto all'inizio perché aveva 90 di centrocampo mi serviva sempre sul gioco online sotto abbiamo buongiorno e chissà che un giorno non troveremo proprio l'autografata perché ricordiamo che all'interno della collezione adrenalin per quanto riguarda autografi originali oltre quello di giro che vedremo se saremo fortunati di trovarlo all'interno di questo blister l'unica presente per il momento è quella di buongiorno con 250 esemplari in giro soprattutto su ebay subinted ne ho viste pochissime quindi la caccia è ancora aperta e poi andiamo avanti vediamo le limited che si possono trovare rivediamo sempre all'interno di questo blister abbiamo vlasic poi abbiamo fantastella upgrade musa mckenny limited edition upgrade politano sotto abbiamo la rookie invincibile guardate tutti 101 di valori per un totale di 303 rookie invincibile upgrade e praticamente sono i giocatori che abbiamo visto dove erano eccoli qui come panini rookie online star messi tutti insieme sotto abbiamo upgrade bellissima questa di dibala con lo sponsor nuovo della roma sotto abbiamo cristovic del lecce altro giocatore della roma in versione limited edition upgrade ovvero cristante continuiamo con toloi sempre limited edition poi abbiamo lukman abbiamo diamante e link junior e sotto abbiamo idolo guardate che bella grafica totalmente nuova questa di belotti upgrade bellissima grafica ci sta tantissimo poi sotto abbiamo nata e apprezzatissimo finalmente che il napoli abbia la maglia con lo scudetto sul petto poi abbiamo il tridente anche questa grafica nuova pellegris anabria e zapata sempre per quanto riguarda la grafica nuova abbiamo upgrade di bremer e sotto ragazzi arriviamo alle winter star e per queste winter star vi volevo far notare che quindi tornano dopo due anni perché due anni fa le trovavamo nel calendario dell'avvento quindi questo prodotto a 15 euro in parte ci va a coprire anche quel calendario dell'avvento che due anni fa aveva delle carte esclusive che si trovano solo all'interno del calendario dell'avvento invece questa volta le troviamo in questo blister a 15 euro che vi ricordo si può trovare tranquillamente in edicola o sul sito sotto la winter star di beltran troviamo un po di carte base vediamo chi hanno messo c'è christensen c'è carlson c'è radonis c'è che dirà devo andare piano ragazzi perché quando arriveremo alla limited di girù quella va vista con calma colpani e il flaco arrivato in nazionale come winter star per era upgrade good moon sono che sta andando veramente molto bene nel nostro campionato josip breccalo poi abbiamo giacomino raspadori sotto abbiamo dunfris devo andare piano ragazzi perché si sta avvicinando la limited di giro e me la voglio godere insieme a voi per vedere se non mi strozzo ragazzi se abbiamo trovato l'autografata intanto qui un altro giocatore della roma che mancini e sotto abbiamo du san blavis sempre winter star nandets insomma ragazzi comunque 51 carte con queste grafiche nuove giocatori aggiornati secondo me come prodotto ci sta qui abbiamo andrea soli allenatore che credo sia l'unico allenatore che si trova all'interno di questo blister poi abbiamo castellanos della lazio giustamente perché si sta ritagliando sempre più spazio cambi aghi sotto abbiamo reinders del mila e attenzione ragazzi ci siamo ci siamo ultima carta eccola qui la limited si vedono i guantoni di giro vediamo ragazzi se dovesse essere l'autografata ragazzi faccio un casino ve lo dico vediamo un po vediamo un po andiamo piano andiamo piano ragazzi perché è nero lì a fianco solitamente le one of one sono nere di lato ragazzi no dai andiamo piano andiamo piano 86 di difesa andiamo piano 75 di centrocampo e niente è la semplice limited edition upgrade di giro quindi concludiamo così lo spacchettamento di questo blister secondo me il prodotto è molto interessante è una non c'era mai stato è una via di mezzo che va a raccogliere un po di aggiornamenti si è vero c'erano le plus ma questi sono ulteriori aggiornamenti va a raccogliere anche un po il calendario dell'avvento a mio parere il prodotto ci sta la mia provocazione è che questo prodotto poteva tranquillamente sostituire le plus magari si facevano due uscite di queste due blister di questi magari da 15 euro con 30 euro si avevano tutti gli aggiornamenti senza andare alla ricerca delle plus che si trovano come sapete purtroppo all'interno di pacchetti dove si trovano le carte normali quindi avremo doppioni su doppioni ma detto questo fatemi sapere voi cosa ne pensate se pensate che quello che ho detto abbia senso fatemelo sapere sotto nei commenti a me non resta che ringraziarvi soprattutto voi che come sempre arrivate alla fine del video purtroppo non abbiamo trovato giro firmato ma spero che abbiate apprezzato questo video buona giornata ragazzi